Salve a tutti amici youtubers e bentrati dal vostro Cattoreggio Rosso94, come sapete ieri pomeriggio è arrivata l'ufficialità e quindi il nostro difensore Costas Manolas ha rinnovato il suo contratto fino al 2022, però, e c'è un però, con l'aggiunta di una clausola di circa 35 barra 37 milioni. Molti si stanno lamentando perché è stata messa una clausola valida sia in Italia che all'estero e oltretutto neanche troppo elevata e io voglio fare questo video sia per dirvi la mia su questo rinnovo e sia per dirvi perché secondo me è stata messa questa clausola. Allora, permetto fin da subito che sono veramente molto contento di questo rinnovo perché per me Manolas, fermo restando che nelle ultime partite sta facendo un po' troppe cavolate, rimane un difensore fantastico, è uno dei miei preferiti. Bravo in velocità, bravo negli anticipi, veramente un difensore completo e nel pieno della sua maturità calcistica perché a 26 anni io penso che un difensore centrale almeno altri 10 anni li possa fare su buonissimi livelli. E secondo me nonostante la bravura di Fazio e Jesus rimane il miglior difensore che abbiamo in rosa in questo momento. Infatti in estate ero molto arrabbiato quando si credeva ormai che fosse ufficiale il suo passaggio allo Zenit, alla fine è andato via Rudiger come difensore centrale e francamente secondo me Manolas era ed è tuttora più forte del centrale tedesco, fermo restando che anche Rudiger è un ottimo giocatore. Poi diciamo subito che il rinnovo secondo me è la scelta più giusta e meritevole per quello che ha fatto con la nostra maia perché finora ovviamente parliamo di livello calcistico, prendevano stipendio ridicolo per quello che era riuscito a far valere e quindi secondo me è giusto averlo rinnovato e dargli i milioni che si merita visto che ci sono tanti altri giocatori che prendevano più soldi di lui ma che in realtà non ci davano lo stesso contributo. Quindi secondo me è giusto dare i milioni a chi se li merita e per me Manolas se li meritava appieno. Detto questo vorrei parlare quindi del punto spinoso se così si può dire di questo rinnovo e cioè la clausola recessoria. Allora molti si domandano ma perché le società mettono le clausole sui rinnovi dei contratti dei propri giocatori non è un controsenso perché se metti la clausola speri che il giocatore se ne vada via a breve però la metti su un contratto di rinnovo quindi le cose non combasciano molto bene. Però io voglio fare questo video appunto per dirvi perché è stata messa. Allora quello che molti non pensano è che quando viene fatto un rinnovo di contratto l'accordo deve essere trovato tra il giocatore il suo entourage ma comunque tra il giocatore entourage e la società sulla base di tot milioni sulla base di tot anni e sulla base appunto delle clausole recessorie. Allora io sono convinto questa è una mia idea poi magari potete non essere d'accordo e non è neanche così in questo caso quello non lo sappiamo però questa è la mia idea. Secondo me i rinnovi fatti con le clausole recessorie sono fatti perché c'è la possibilità che il giocatore se ne voglia andare in futuro. Vi spiego brevemente come è la questione. Manolas aveva un contratto in scadenza tra due anni forse 2019 quindi se noi non avessimo rinnovato quest'anno l'anno prossimo avrebbe potuto decidere di non accettare nessuna offerta e di partire quindi a zero come hanno fatto tanti tanti altri giocatori. Invece questo tipo di rinnovi secondo me servono sia per mantenere comunque il giocatore per più anni e sia soprattutto per guadagnarci qualche milione da una sua cessione. Io non penso che la Roma abbia voluto volutamente mettere questa clausola e Manolas gli abbia detto no ti prego non la mettere. Per me questo è un accordo fatto insieme perché almeno da una sua possibile cessione ne possono guadagnare tutti. Ne guadagna Manolas che può andare dove meglio gli pare perché se gli arrivano offerte di quella cifra può scegliere lui in quale squadra andare. E gli va bene alla Roma perché comunque almeno ci guadagniamo qualche soldo. Adesso direte eh sì ma è una clausola minuscola cioè Isai ha 40 milioni di clausola quello sì quello lo dico anch'io cioè io sono d'accordo per me non è una clausola così elevata rispetto al reale valore del giocatore. Però secondo me questi sono accordi che sono stati presi proprio con lo stesso giocatore. Quindi se anche lui ha voluto questa clausola di tot milioni vuol dire che alla fine era giusto così. Quindi io sono contentissimo del rinnovo di Manolas del fatto che rimanga con noi spero per tanti altri anni a venire. Però ovviamente questa clausola non mi è piaciuta. Io ho voluto fare questo video soprattutto per difendere se così si può dire la società perché secondo me né la Roma ma né tantomeno tante altre squadre mettono le clausole soltanto per divertimento. Perché come molti di voi pensano non avrebbe senso logico perché su un contratto di rinnovo ci mette una clausola per poterlo magari cedere se una squadra offre quella tot cifra. È un discorso un po' insensato però io spero con questo video di avervi chiarito il discorso. E cioè che quando ci sono queste cose non è mai responsabilità solo della società ma sono anche idee diciamo dell'entourage del giocatore e dello stesso giocatore. Fermo stando che io spero che Manolas possa restare per altri 6 o 7 anni perché mi piace veramente tanto. Fatemi sapere nei commenti voi che se ne pensate del rinnovo di Manolas fino al 2022. Ci vediamo presto per un altro video. Un saluto e sempre Forza Roma. Ciao ragazzi.